Invito tutti i commercianti, gli artigiani, i cittadini giorno 25 alle ore 10 a abbassare le sere cinesche, interrompere i propri impegni per riunirsi alla manifestazione di giorno 25 alle ore 10 a Piazza Poletiamo per combattere tutti assieme contro il caro, bollette, luce e gas. E' un problema che ci attanaglia tutti, è un problema che ci ridurrà tutti alla fame, alla povertà perché non si possono sostenere questi costi così alti di luce e gas, non si possono sostenere. Vi prego, venite giorno 25 a Piazza Poletiamo, unitevi, uniamoci tutti assieme per protestare contro il caro bolletta, luce e gas. Interrompiamo i nostri impegni, abbassiamo le sere cinesche, è importante, è importante, non mancate, ognuno dobbiamo gridare la nostra voce, svegliamoci, alziamo la testa, apriamo gli occhi, facciamo ragionare la mente. Quali sono le proposte che fate al governo per risolvere questo problema? Le proposte che faremo al governo sono una moratoria che interrompa il pagamento delle bollette perché non tutti oggi hanno la possibilità di pagare le bollette. Una moratoria che interrompa il pagamento delle bollette fin quando il governo nazionale non riporterà il prezzo di luce e gas retroattivo di un anno addietro. Un'altra cosa che chiederemo è la cassa integrazione in deroga speciale tipo Covid perché ci sono tante aziende che non possono chiudere o che hanno chiuso e gli rimane il problema di pagare i dipendenti perché oggi non abbiamo una cassa integrazione in deroga, abbiamo quella ordinaria e significa che li dovrebbero anticipare loro gli stipendi. Ma se uno chiude perché non può pagare la bolletta ma come farà a pagare gli stipendi? Lei ha fatto una scelta molto coraggiosa, ha preferito garantire i suoi collaboratori, i suoi dipendenti che pagare le bollette che le sono arrivate, 100 mila euro in pochissimi mesi. Io ho fatto una scelta obbligatoria perché ho dovuto scegliere, devo pagare i dipendenti, devo pagare lo Stato, devo pagare i fornitori o devo pagare chi mi fornisce energia elettrica. Ho preferito escludere chi mi fornisce l'energia elettrica ma non perché ho voluto fare una disparità, perché oggi è la causa di tutto questo male che sta succedendo in Italia.